Pochi giorni a Natale e Noi Media Network segue uno degli eventi più simpatici e calorosi di questo periodo. Siamo qui infatti a San Martino con l'assessora alla cultura Stefania Zanda. Stefania, il tradizionale concerto natalizio stasera? Sì, buonasera a tutti. Il concerto tradizionale di Natale quest'anno è stato organizzato appunto per, sia per aiutare due associazioni che sono Arianna e i Bambini Felici e Atmo, sia per allietarci con un gruppo di coristi e di musicisti che si chiama appunto Musiche e Anime. Io sono felice di averli a San Martino perché sono del territorio, sono conosciuti per cui auguro loro di farci divertire. Monica Guzzi, il direttore artistico di Musica ed Anima, Un'associazione che si occupa nello specifico di? Di musica a tutti i livelli, cioè musica che spazia dal pop italiano al soul, al rock, al blues, ma tutto quanto riscritto per coro, quindi con un'attenzione alle quattro sezioni vocali classiche del coro. Quindi i nostri pezzi sono originali, i nostri. Mi progetto una nuova collaborazione con una rock band del territorio, del Vogherese, e probabilmente da gennaio cominceremo a collaborare con loro. Per seguirvi, i vostri fan, dove vi possono seguire? Abbiamo il nostro sito www.musicaandanima.it e la nostra pagina Facebook Musiche e Anime. Stefania, questo 2016 si sta concludendo, un bilancio degli eventi culturali di San Martino lo possiamo fare? Direi sì, un bilancio molto positivo perché si è cercato di spaziare a 360 gradi, coinvolgere gli adulti, coinvolgere i bambini con la biblioteca, coinvolgere tutti gli spazi, le associazioni, tutti gli spazi che il Comune di San Martino possiede e che mette a disposizione spesso gratuitamente di quanti ne hanno bisogno. Ecco, una politica molto attiva, quella del Comune di San Martino, infatti quest'anno avete anche dato vita alla Casa delle Associazioni. Esattamente, la Casa delle Associazioni che ospita alcune associazioni del nostro territorio e ne verrà aperta a brevissima un'altra, in modo da favorire lo scambio tra le associazioni di volontariato. Noi vi ringraziamo, Noi Media Network vi seguirà, auguriamo tutti un felice Natale e buon ascolto di musica ed anima. Cristina Sanbruna per Noi Media Network. Cristina Sanbruna per Noi Media NT$. Grazie a tutti.